ciao da luci è un po che non vi faccio la scuola di uncinetto e vorrei riprendere un pochino questa abitudine che avevo soprattutto all'inizio all'apertura del mio canale perché molte di voi non sanno leggere gli schemi quindi io cercherò in rete in ogni dove su riviste e quant'altro degli schemi e poi vi farò vedere appunto i punti come si eseguono più che altro perché a volte mi capita poi che ci farò dei progetti con questi punti e durante il progetto magari non si capisce non sia il tempo più che altro materiale per soffermarsi su quello che è proprio il punto di per sé ma più che altro si va a unire punto a struttura e quant'altro quindi magari farvi vedere in separata sede il punto potrebbe essere una cosa molto utile quindi oggi partiremo con un punto che io userò nel prossimo progetto e quindi adesso ve lo farò vedere con con più calma e tranquillità allora ho avviato una catenella da 32 più 1 quindi sono due moduli due moduli da 16 più una quindi 33 catenelle in totale ora andrò a fare tutto un giro di maglie basse non è necessario partire col giro di maglie basse lo faccio io perché per la spiegazione è più comodo e poi io generalmente quando parto facendo un lavoro parto sempre con una base di maglie basse proprio perché così se poi voglio bordare o qualsiasi altra cosa scusate ho comunque un aggancio un po più stabile per poi poter proseguire col mio lavoro quindi adesso vado a fare un giro di 33 maglie basse e al termine delle quali ci rivedremo per iniziare direttamente dal punto iniziamo il punto vero e proprio in questo modo allora facciamo una maglia bassa nella primissima catenella o maglia bassa di inizio giro dopodiché facciamo due catenelle una e due saltiamo due maglie basse o catenelle sottostanti e nella terza andiamo a fare una maglia bassa una maglia bassa dopodiché andiamo a fare cinque catenelle una due tre quattro e cinque saltiamo sempre due maglie basse o catenelle sottostanti quindi saltiamo due una due e nella terza andiamo a fare la maglia bassa di nuovo cinque catenelle una due tre quattro e cinque però questa volta saltiamo tre maglie basse sottostanti una due tre nella quarta andiamo a fare una maglia bassa di nuovo cinque catenelle 1 2 3 4 5 saltiamo due maglie basse sottostanti nella terza andiamo a fare la nostra ecco qua maglia bassa ora ne facciamo due sempre ne saltiamo due sottostanti nella terza maglia bassa di nuovo due saltiamo due maglie sottostanti nella terza maglia bassa quindi adesso andiamo a ripetere le cinque catenelle 1 2 3 4 5 saltiamo due maglie sottostanti nella terza maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 ne saltiamo 3 1 2 3 nella quarta facciamo la maglia bassa di nuovo 5 2 3 4 5 ne saltiamo 2 maglia bassa di nuovo ne facciamo 2 1 2 catenelle saltiamo 2 maglie e ci ritroviamo nell'ultima facendo la nostra maglia bassa quindi adesso ricapitoliamo abbiamo fatto una maglia bassa per partire 2 catenelle 1 maglia bassa saltandone 2 sottostanti 5 catenelle saltandone 2 e facendo nella terza la maglia bassa 5 catenelle saltandone 3 e facendo la maglia bassa nella quarta dopodiché abbiamo di nuovo fatto 5 catenelle saltandone solo 2 maglia bassa nella terza poi abbiamo fatto due sequenze da 2 catenelle saltandone 2 2 catenelle saltandone 2 e abbiamo ricominciato a fare il modulo come qui quindi 5 saltandone 2 5 saltandone 3 5 saltandone 2 e chiudiamo 2 catenelle saltandone 2 e questo è il nostro nostro primissimo giro ora partiamo con il secondo giro e il secondo giro sarà in questo modo quindi facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro carichiamo e nella stessa maglia dalla quale abbiamo fatto le 3 catenelle andiamo a fare una maglia alta di nuovo 3 catenelle 1 2 3 catenelle ecco qui andiamo a fare una maglia bassa nel primo archetto quindi saltiamo quello da 2 andiamo in nel primo archetto da 5 con una maglia bassa dopodiché saltiamo nel prossimo archetto facendo 9 maglie alte quindi entriamo nell'archetto da 5 consecutivo all'archetto appena lavorato e andiamo a fare 9 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 scusate il gomitolo 6 1 2 3 4 6 6 7 8 8 e 9 abbiamo fatto un archetto andiamo a agganciarci nel prossimo archetto con una maglia bassa in questo modo ora facciamo 3 catenelle 1 2 3 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte vedete qua c'è l'archetto da 2 e l'archetto da 2 separato da una maglia bassa noi andiamo a fare 3 maglie alte proprio su quella maglia bassa al centro dei due archetti da 2 catenelle quindi facciamo 1 3 catenelle 1 2 3 di nuovo mai saltiamo l'archetto vedete i due archetti tra la maglia bassa scusate la maglia bassa sta tra due archetti noi quei due archetti non li lavoriamo andiamo direttamente nell'archetto da 5 con la maglia bassa in questo modo dopo di che ripetiamo quello che abbiamo fatto qui quindi adesso andiamo nell'archetto da 5 questo più grande perché separato da 3 maglie saltate a fare di nuovo le nostre 9 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 quindi chiudiamo di nuovo con una maglia bassa nel prossimo archetto in questo modo facciamo 3 catenelle e andiamo a chiudere nell'ultima maglia bassa qui con 2 maglie alte quindi abbiamo finito anche il nostro secondo giro iniziamo il terzo giro in questo modo quindi facciamo una catenella voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta scusate una maglia bassa sulla maglia alta sottostante e una maglia bassa sulla maglia alta a fianco quindi copriamo le due maglie alte sottostanti con in ciascuna una maglia bassa dopodiché facciamo una catenella carichiamo e andiamo a lavorare sulla prima maglia alta del ventaglio quindi facciamo maglia alta catenella carichiamo andiamo nella prossima maglia alta catenella prossima maglia alta catenella maglia alta successiva quindi facciamo lavoriamo su ogni maglia alta sottostante una maglia alta intervallata da una catenella in questo modo catenella maglia alta catenella maglia alta siamo nell'ultima vediamo le conto per essere sicure sono due, quattro, sei, otto ne manca una quindi catenella maglia alta faccio una catenella e vado a fare su queste tre maglie alte sottostanti queste qui vado a fare una maglia alta su ognuna di queste quindi una due tre fate le tre maglie basse faccio la catenella e ripeto quello fatto ciò che ho fatto sopra all'altro ventaglio quindi vado a fare né più né meno la stessa cosa carico sulla prima maglia alta faccio la maglia alta una catenella sulla seconda catenella sulla terza catenella sulla quarta catenella quinta catenella catenella sesta setima catenella e nona catenella andiamo a fare quello che abbiamo fatto all'inizio quindi andiamo a fare sulle due maglie alte quindi sulla maglia alta e le tre catenelle di inizio giro precedente una maglia bassa e sulla terza catenella di inizio una maglia bassa quindi concludiamo con, vedete, come abbiamo una catenella voltiamo il lavoro, facciamo la maglia bassa da dove sono uscita con la catenella quindi sulla primissima maglia facciamo una maglia bassa ed ora andiamo a ripetere l'archetto come, scusate, l'archetto, il ventaglio come fatto in precedenza quindi faccio una catenella, entro sulla maglia alta del ventaglio sulla prima sottostante scusate, faccio una maglia alta una catenella, passo alla prossima, quindi né più né meno come fatto nel giro precedente quindi sempre una maglia alta intervallata da una catenella in questo modo, quindi su ogni maglia alta sottostante facciamo la maglia alta sulla catenella facciamo la catenella in questo modo esrotolo un attimo il gomitolo perché, ecco qua è un po' fastidio ecco qui quindi ho fatto la catenella vediamo subito, eh perché se ci distraiamo ecco qua ecco qua catenella vado sull'ultima e faccio la maglia alta la catenella la maglia bassa la vado a fare al centro delle tre quindi sulla seconda delle tre fatte nel giro precedente quindi proprio qui al centro faccio la mia maglia bassa una catenella e riparto facendo il ventaglio quindi maglia alta catenella maglia alta catenella e così vado avanti vedete, ripetendo la stessa cosa che ho fatto da questa parte allora partiamo facendo 5 catenelle una due tre quattro cinque volto il lavoro e vado a lavorare una maglia bassa nel terzo spazio che trovo tra gli archetti allora non calcolando questo spazio che è quello della prima catenella andiamo uno due il terzo è questo quindi vado a fare la mia maglia bassa dopodiché faccio 5 catenelle due tre quattro cinque salto nel prossimo spazio e faccio una maglia bassa cinque catenelle quindi salto nel prossimo spazio cinque catenelle salto nel prossimo spazio tre catenelle e vado a fare una maglia alta sulla maglia bassa tra i due ventagli quindi questa qui quindi saltiamo uno due spazi la catenella che c'era prima della maglia bassa e vado a farci sopra una maglia alta quindi faccio di nuovo tre catenelle carico salto uno due nel terzo spazio sopra al nostro ventaglio vado a fare scusate la maglia bassa non la maglia alta ho caricato per fare la maglia ma ecco qua era bassa ne faccio cinque salto uno prossimo spazio maglia bassa cinque prossimo spazio maglia bassa maglia bassa quindi vado a fare tre catenelle una due tre e una maglia alta sulla maglia bassa di fine giro proprio qua ora non devo fare altro che ripetere il secondo giro in che modo lo facciamo insieme il secondo giro così vi è più facile allora il secondo giro sarebbe quello con come si dice la maglia alta la maglia bassa nel primo archetto e poi le nove maglie alte sugli archetti centrali ma adesso la facciamo insieme così non vi confondo perché poi da lì sarà sempre la stessa lavorazione scusate ho picchiato dentro quindi vado a fare tre catenelle volto il lavoro e faccio la seconda maglia alta sempre all'interno quindi alla base delle tre catenelle in questo modo sulla stessa maglia dopodiché faccio le mie tre catenelle una due tre salto con una maglia bassa nel primo archetto da cinque qua faccio direttamente carico e nell'archetto a fianco vado a fare nove maglie alte una due tre quattro cinque sei sette otto e nove mi fermo nel prossimo archetto con una maglia bassa tre catenelle e su questa maglia alta vado a farne altre tre sulla maglia alta centrale del giro precedente vado a fare tre maglie alte uno due e tre tre catenelle maglia bassa nel prossimo archetto carico il filo e nell'archetto a fianco vado a fare di nuovo nove maglie alte una due tre quattro cinque sei sette otto e nove maglia bassa nel prossimo archetto tre catenelle e saltando quest'arco nell'ultima maglia del giro vado a fare due maglie alte una e due vedete stiamo ripetendo nuovamente il giro due quindi adesso andremo a fare il giro numero tre lo andiamo avanti a fare insieme anche quest'altro giro perché così vi è chiaro e potete poi procedere da sole quindi adesso faremo una catenella e voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante quindi una e due una catenella e iniziamo a lavorare sulle maglie alte del nostro ventaglio quindi maglia alta catenella sulla prossima maglia alta catenella sulla prossima maglia alta catenella sulla successiva maglia alta catenella andiamo avanti per tutte le maglie alte del ventaglio sottostante vediamo quante sono sono due quattro sei otto lavoriamo l'ultima facciamo la catenella e andiamo a fare tre maglie basse su ogni maglia alta sottostante scusate una maglia alta una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante per un totale di tre abbiamo tre maglie alte sottostanti e andiamo a fare su ciascuna di esse una maglia bassa scusate sono andate in confusione ora facciamo una catenella e ripartiamo facendo una maglia alta e una catenella su ogni maglia alta del ventaglio sottostante quindi procediamo così fino al termine di questo giro fatta anche la catenella dopo l'ultima maglia alta vado a fare due maglie basse una per ogni maglia alta sottostante quindi abbiamo due maglie alte facciamo due maglie basse ora andiamo a fare l'ultimo giro anche di questa sequenza quindi andiamo a fare una catenella avvoltiamo il lavoro facciamo una maglia bassa lì dove abbiamo fatto la catenella dopodiché catenella scusate ecco carichiamo maglia alta sulla prima maglia alta del ventaglio catenella maglia alta sulla prossima maglia alta del ventaglio catenella maglia alta sulla successiva maglia alta quindi facciamo maglia alta su maglia alta catenella su catenella in questo modo stiamo ripetendo né più né meno ecco qua scusate quello che abbiamo fatto nel terzo giro del nostro lavoro se non sbaglio si era il terzo ecco qua catenella di nuovo maglia alta catenella vado nell'ultima maglia alta e faccio la catenella ora vado a fare una maglia bassa sulla maglia centrale di quelle sottostanti fatte quindi c'erano tre maglie basse io vado a fare su quella centrale una maglia bassa la catenella e proseguo così vedete in questo modo per tutto il giro quindi andrò a ripetere maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta catenella dopodiché all'ultimo farò la catenella e chiuderò con una maglia bassa proprio qui nell'ultima maglia del giro ecco qua cosa avremo al termine del nostro giro vedete andiamo a ripetere ventagli su ventagli è molto bello questo punto secondo me è anche molto d'utile si può prestare a fare stole a fare anche dei bordini volendo perché può essere usato anche come bordura lo trovo veramente molto interessante come punto io ve l'ho fatto vedere perché il prossimo tutorial avrà come protagonista proprio questo punto e quindi se qualcuna di voi nel caso vuole iniziare a fare qualche prova oppure lo trova interessante lo vuole usare per qualche suo progetto io ho pensato di farvelo vedere perché veramente io lo trovo molto molto bello quindi io vi saluto con questo punto bellissimo vi do appuntamento al prossimo tutorial vi invito a venire a trovarmi nel gruppo facebook creando e chiacchierando con luci un bacione grandissimo ciao ciao al prossimo tutorial ciao